Un luogo dove l'oro scorre a rivoli, fra uomini impassibili e indifferenti, la zecca di Filadelfia. Si fondono lingotti per trasportarli al Forte Knox, nel Kentucky, deposito della riserva aurea della nazione, valutata a 11 bilioni di dollari. Naturalmente la cassaforte che custodisce un tale tesoro è una vela fortezza. Gli esperti la richiarano addirittura invunderabile a prova di bomba, mentre però un semplice colpo di martello sulle sue mura sarebbe sufficiente a scatenare una soneria che dà l'allarme ai 2000 soldati della guarnigione. Per darvi un'idea dell'enorme quantità d'oro qui depositata, diremo che se uno di voi avesse tesaurizzato 15.000 dollari al giorno dal principio dell'era cristiana, non avrebbe ancora in suo possesso la somma qui raccolta.